Ciao, sono Coco! Oggi volevo fare vedere una camera dell'albergo giapponese. Noi giapponesi tradizionalmente dormiamo su futon, materasso giapponese. Spesso possiamo scegliere una camera alla giapponese con futon oppure quella occidentale con letti. La preparazione di futon era eccezionale, ho fatto il video. Prego! Adesso hai capito quale camera devi scegliere? Molto facile! Mi fa molto piacere se ti iscrivi al mio canale. Ho anche Instagram e Facebook. Qui sotto trovi il link! Grazie! 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 Grazie!